Ehm, o cecchino, o pistola, o... che ne so, quello che c'è. Perché io ho a mira delle armi da precisione. Uh, quello che ho adesso è il caricatore di munizioni, cioè, che ha cercato di munizioni speciali. Se no, posso ovviamente la quantità di munizioni trasportabili per lanciarazzi. Vabbè, qua non è, metodo diretta. Senti, e mei estrazione celer, assassino ambizioso, o rivelatore di minacce e mulligan? Per testore martello. Vabbè, ovviamente se non ce l'ho uno, c'ha questi due, ma. Quella è che tengo. Per me è estrazione celer, assassino ambizioso. Grazie. Grazie a tutti.